ok qui abbiamo due rifiuti cioè sono due oggetti che stavano praticamente buttati c'è una tastierina a giocattolo degli anni sessanta viene una sfera al plasma cinese classica tipo che crea un disturbo un po gli elettroni e il suono della tastierina è questo abbiamo risistemato con un trasformatore nuovo ma aggiungendo questo disturbo succede questo qua bellissimo grazie